E' proprio fatto di violenza proprio l'olto Ma proprio l'olto di violenza Battle of the Superbrick con il terzo livello di Lego Avengers Questo chi è? Questo praticamente è Capitano America Senza costume Prima di diventare Capitano America Senza costume Senza costume, si E questo va praticamente è da tu E' quello chi è invece quell'altro? Questo di qua chi è invece? Questo chi è? Ah vedi è Nick Fury Nick Fury può sparare con la pistola, si vero? Si va sparare, anche dopo salve lupi e pene a puni quella roba Che figo, aspetta che sta prendendo a pugni Nick Fury Che figata Oh e dai Ah ma anche se è rotto qui, se è rotto niente però Sai il fio Non si deve avere anche niente Non si deve avere niente? Non si deve avere niente Ah Vedi che c'ho ragione che qualcosa andava rotto Pule lì, pure lì, pure lì Adesso andiamo a romper tutto, andiamo a romper Ma qui posso entrare dentro? Infatti si può entrare dentro Con l'acuto Ma quello non lo rompe, c'è lo Capitano America Dopo lo usa Capitano America Ma non mi spoilerà le cose Allora qui adesso dobbiamo costruire una cosa Ma prendiamo le costruire cose O andiamo a prendere il mini kit Dobbiamo prendere il mini kit Una stava di qua Ma mi sembra che ce ne sta pure una di qua, se non mi sbaglio Ah, una è con lì su vedi Eccola lì E' un'altra forse E' una mi sa che state qua Eccola qui infatti vedi? Ma nascondono sempre nel posto dove meno da aspetti E ci siamo presi il primo mini kit Adesso Che mini kit sono uguali a quei superiore I mini kit sono sempre di stessa Adesso Pannello con i Fili di Baden West Adesso Come pannello con i Fili di come si fa? Li di far pannello Aspetta un attimo Oh, attenzione Capitano America, attenzione E' far pannello lì Prima devo romper qualcosa prima per far pannello Perché non si può costruire il pannello Qui serve Capitano America Qui serve Capitano America Capitano America scuola Non è nemmeno salito Dai il tempo Dai Le scalette questo Visto ma guarda quanto è bello Su livello Veramente figo vedi Sfacciato tutto, sfacciato Allora Adesso vedi che qua sono cascati dei pezzi Vedi servivano i pezzi per costruire quella cosa Ma vedi che c'ho ragione che servivano i pezzi per costruire il pannello Ah perchè lì l'ha fatto I fiori Andiamo con Nick Fury qua Che deve fare Nick Fury Che ho quelle manine lì che sta toccato tutto Che tocchi? Guardi se non sei capace ma che tocchi? Adesso devi aspettare un po' Ok si libera Adam West Le aspetta un po' E si liberi Ecco All'aria di un'altra situazione spinosa Ci sei Adam? Questa cos'è questa cosa che si è illuminata? Andiamo un po' Ah non si può vedere questo Rimane così per terra? Quante robe capirai quanto devi prendere pugni Sì Vediamo Ah questi sono i suoi ricordi no? Quando è diventato capitano America Sì Vuoi testio rosso Testio rosso A questo è Ah eccolo Questo è il dottor Zula Un capolavoro Che sta succedendo Captain America Che emozione Forza Andiamo Su Ah ma già qui partiamo? Sì Ah già qui partiamo? Questo è il livello vero piano Chi è il suo? Questo è il livello vero prima Non era ancora il livello Ho capito La prima era il livello finto Sì Per amirare la vera forza dell'idra Vabbè questi sono Che dobbiamo fare qui? Massa quant'è bella Dobbiamo ammazzarsi nemici penso Sì Però capirai si vuole la mezzata Vogliamo fare la super? Vogliamo fare la combo? Sì Vediamo vediamo Facciamo la combo Vediamo che succede Questa qui la combo Vabbè niente di che Non è mica tanto bella sta combo però Qui che dobbiamo fare Questo che sta fa qui? Che sta a fare di sopra? Come fa uno gira Favolo gira dai Che sta fa questo qua sopra? Però qui mi sa che bisogna fare qualcosa Oh ma mai sparato eh? Ma che è che non so sparare? Se vai con lui fai la combo Perché sei a stagliere zalla Vabbè ma tanto non ci sta nessuno Vediamo un po' che c'è da fare Perché qui Stanno venire gli scagnozzi Ma non smetto di venire mai Ok ok adesso si Vediamo la prova ai tuoi nuovi progetti Tutto Ehm eh 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 Come se la cavera qual il bagliaccio con lo scudo Ehm Chi arriva? Oh oh Che essere roba mi sembra pericoloso che sembra E' laser Oh ma che so tutte queste cose? Aspetta aspetta Che devo fare? Aspetta che qui Stip Puoi spegnere le fiamme col tuo scudo Ma adesso mi spara? Oh ma è messa a sparare Ma che davvero? Oh scappa 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 Non devi scappare E che devo fa? Oh sotto ci devo passare Oh via 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 Ehm sono buttato di sotto Ma hai detto sotto E tu mi hai detto sotto Mi sono buttato di sotto io E passare sotto all'aria Non buttare di sotto Ma dobbiamo romperlo quel coso lì? Dobbiamo romperlo quella cosa che ci spara? Facciamo la combo? No non dobbiamo romperla No non dobbiamo romperla Non la rompiamo? Dobbiamo ammazzare solo gli scagnozzi? Ah no 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 Bisogna costruire sta cosa Bisogna costruire E poi l'ho fatto di violenza proprio l'otto Ma proprio l'otto di violenza Andiamo con lui Andiamo con lui Andiamo con lui che lui forse può attirà qui C'è il rampino lui Vediamo la combo se si può fa Facciamo la combo insieme Insomma C'è il rampino lui? Eccolo qui Veloce veloce Prendiamo che spara veloce Prendiamo che spara Perfetto E dai eh E poi Puoi vedere se gli essa può fare Quello di violenza quella roba E che violenza? Capitan America Bella sta combo però eh Non fa niente Non fa niente Non fa niente Non fa niente Un altro cannone Sì Difficile sta livello Questo Come si fa? Partiamo subito con la combo Ad andiamo con lui Ammettere di esserti lasciato Ah cavolo ma colpito Stavo stavo di spalle Stavo con lo scuro Secondo me bisogna rimandagliela con lo scuro però Nooo Si No Pesco fa soltanto quando sei la piattaforma Che piattaforma? Vediamo La piattaforma non sei qui non si deve fare Non lo fare Non lo faccio Non lo faccio tranquillo Non lo faccio Rispetto a un salto punto E' stato Adesso si toglie Sei sicuro? Si Un salto punto A che punto? Ah questo punto Ah questo punto Ah questa era appunto C'è ragione Tu dimmi quando arriva al punto Sì Adesso che abbiamo capito come si fa Andiamo libero A che c'è pure mattaccio Blu visto Cos'è mattaccio Blu Di erano scorsi Ma lì non si deve andare Non ci vado lì Perché no? E mi sa che ci devono approvare Una piave sopra No? Sennò che famosa Molto il tempo pieno Sennò che si può prendere Quello bravo Non si può prendere ancora Ah questo è Arnimzula Quello lì coi pissoloni lì Il pissolero Sì Avessi queste alle tassette Egalizze e sull'Arnim Ah si Arnimzula Eccolo E questo come si sconfiggia? Sì Sì Si può sapere come si sconfiggia questo Non si può All'anzitutto cosa sa Anche a di sopra E tu vuoi Di lanciare lo scuro? Si lo deve lanciare Si lo deve lanciare Deve lanciare Attenzione che adesso Questi sono arrabbiati quando erano Che si quando erano So parecchi arrabbiati eh Vediamo di fargli subito la gombo appena escono Ma famigli subito la gombo Mi fanno nessun danno Così c'è bene Ah ah però quello Oh quello fa male eh Maledetto Maledetto Ma io vado se vado con lo scudo Lo posso risparare indietro con lo scudo? No Aspetta un attimo Ti buttai sotto Vediamo Eh si vedi che ci devo andare con lo scudo Ah 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 Adesso chi ride? Adesso non ride Io rido Adesso rido io che c'è quel nome simpatico Andiamo Via Ah qui dobbiamo salire però eh Qui dobbiamo saltare di lì su quell'assa con Capitano America Ah c'è il trampolino Poi sicuro che se lo fai? Eh non lo so infatti E' molto Aspetta che questo buggy non è mica un campione di tuffi eh Ma che faccio stacco? Ma che faccio stacco? Aspetta ammazziamo che Aspetta ammazziamo questi buggy ma siamo sicuri che se lo da? Non è meglio che lo fa Capitano America? Non è meglio che lo fa Capitano America? Ma fa alla combo Hai messo a staglia blu sopra Aspetta un attimo che deve ammazzar sto fregno che sta assertà Ah dai ah 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 così si salta Eh si dai Con la A si salta Con la A si salta Tu tipo stai perdendo tempo a buttarti sotto Hai ragione Io e buggy che se voleva sartà Io gli ho detto a buggy ma se non sai sartà ma lascia perdere Fai muovo o meno E lui ha detto no no io sono sartato Sartato è stato campione di tuffi olimpionico all'università E stava beh Fa un po' come ne pare E si è buttato di sotto Visto? Dov'ha? Non cascare di sotto eh Buggy non deve cascare di sotto lui no Ok e qui abbiamo preso il secondo minikit Il terzo Al secondo terzo ma abbiamo preso non so perchè Quella lì sotto aspetta Si è anche strumento al tararo Scagnozzo Via 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 spostamose che qui Quei cose mi danno un'elettricità Diciamo io lo scudo da lontano Ma quanti scagnozioni Perfetto E adesso? Siete in difficoltà? Ah pene Però all'indurla quanti mattoni sicuramente Allora andiamo con capitano america che bisogna riflettergli secondo me No non vale fa esso C'è mancato poco Allora andiamo a capitano america E vai E vai E spegniamo qua al fuoco Violenza Poi E qui c'è un altro fuoco da spegni ancora Con spegni Così E poi c'è qualcosa da costruire La chiaramente più che non spotta manco spegni E qui c'è qualcosa qua E qui c'è qualcosa qua C'è un matricidio nascosti? Non c'è so niente Aviva c'è un altro pezzo così qui Ah Quanto si metti papi Eccolo E dai è E dai Il caschiamole sotto se non si deve E per l'altro ho degli spaccato capito Vediamo se sei da solo questo se è così intelligente e buggy da salì da solo Si deve salì da solo Ah no 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 guarda doveva aiutare io Ma spinto e deve salì da solo Ma spinto e deve salì da solo Eh è vero infatti devo aiutare io Perché buggy Non hai capito da niente Non hai capito da niente Lo sappiamo che buggy non gliela fa lì Oh buggy dai un po' E quindi E quindi E quindi E quindi E quindi niente Noi gli sparamo Speriamo che smetta poco buggy e salì Qui Anche di qua bisogna sparare La bombetta Ok andiamo con capitano l'America Vero se Aspetta che abbiamo uno scudo alzato con capitano l'America Così ci colpiscono Aspetta che mi ha disintegrato Avete ma considerate un più scudo Ma considerate Ok un attimo che si concentrava Vabbè che questo verso il gioco è un pochino complicato Va Chi viene 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 Insieme possiamo sconfiggermi Ok Ancora altuna Avere Aspetta spero che ci faccia di sotto Ok Quindi si va Ha fatto una piattaforma Vai riflettuto Va costruito veloce Quello è Aspetta un attimo Fai Ah si perchè anche lo scudo mi rompe E' anche perchè poteva costruito già da qui la piattaforma Sai sopra e aziona B Così E dopo va finito di rompermi violenza Penso Ok E dopo lo spegne il fuoco con violenza Entri Spendiamo il fuoco Oh ma è difficile questo livello eh Non è mica tanto facile E l'altro personaggio come è salito Ascolò Già stava dentro il treno Non è mai sceso quello Può farla con un po' se perdi lui Ma quello sta un attimino impegnata adesso Se casca giù il treno Ma è capito il capitale americano Se casca giù il treno Il capitale americano si è manco accolto Nooo Ah non ce la fa a salvarlo però Non muore Non muore No non muore Però se fa male Non si fa male E' molto ricordo perché cade il giro Qua si poi se non ricordi il capitale americano capito ormai si ricorda si ricorda quello che era successo prima, capito? il livello finisce qui noi ci vediamo la settimana prossima con il quarto livello di Lego sempre qui su qualsiasi